Certo, ed è quella di considerare che in questo momento un certo rischio di incremento nel numero di casi ci sarà, perché le riaperture portano a più contatti e a più infezioni. Quindi l'ondina di cui parlava. L'ondina di cui dicevo all'inizio. Quest'ondina ci preoccupa ovviamente, però abbiamo l'aspetto positivo, è quello che veniva ben raccontato dal vostro clip, che è quella che se andiamo a vedere i casi gravi ci aspettiamo che siano sempre meno. Quindi non ci sia quella proporzionalità di dolore nel numero di morti che c'è stata fino ad ora, ma questa correlazione va a svantaggio, ed è una bella cosa, delle forme più grave. Quindi noi misurando questa parte, che è quella che ci preoccupa di più, quella che riguarda l'appesantimento del Servizio Sanitario Nazionale, della capacità di assistere al meglio le persone che si ammaleranno, perché questo è un concetto che in queste aperture portano con sé, quindi un certo prezzo da pagare, però è chiaro che se lo facciamo in un contesto come ora, di terapie intensive non sature, di ospedali che possono assistere al meglio queste persone, governiamo questa fase che ancora durerà un po', perché l'Inghilterra, Israele ma anche gli Stati Uniti sono un po' più avanti nel film, come nelle pay tv. Che però è quello che noi vedremo, dovremmo andare a vedere. E quindi siamo in un tempo di attesa verso sperabilmente quel tipo di evidenza. Domani si vedono governo e regioni per verificare la possibilità... Sibir!